Buongiorno, oggi vi leggerò I viaggi di Paloma, la iola di sabbia, di Italo Calvino, tratto dal libro Paloma di Einaudi nel 1983. Un piccolo cortile ricoperto da una sabbia bianca ha grossi grani, quasi una ghiaia, rastrellata in solchi diritti paralleli o in circoli concentrici, intorno a cinque gruppi irregolari di sassi o bassi scogli. Questo è uno dei monumenti più famosi della civiltà giapponese, il giardino di rocce e sabbia del tempio Ryo Anji di Kyoto, l'immagine tipica della contemplazione dell'assoluto da raggiungersi con mezzi più semplici e senza ricorso a concetti esprimibili con parole, secondo l'insegnamento dei monaci zen, la setta più spirituale del buddismo. Il recinto rettangolare di sabbia in colore è fiancheggiato su tre lati da muri sormontati da tegole, oltre i quali verdeggiano gli alberi. Sul quarto lato è una pedana di legno a gradini, dove il pubblico può passare e sostare e sedersi. Se il nostro sguardo interiore resterà assorto nella vista di questo giardino, spiega il volantino che viene offerto ai visitatori, in giapponese e in inglese, firmato dall'abbate del tempio, ci sentiremo spogliati dalla relatività del nostro io individuale, mentre l'intuizione dell'io assoluto ci riempirà di serena meraviglia, purificando le nostre menti offuscate. Il signor Paloma è disposto a seguire questi consigli con fiducia, si siede sui gradini, osserva le rocce una per una, segue le ondulazioni sulla sabbia bianca, lascia che l'armonia indefinibile che collega gli elementi del quadro lo pervada a poco a poco. Ossia cerca di immaginare tutte queste cose come le sentirebbe qualcuno che potesse concentrarsi a guardare il giardino zen in solitudine e in silenzio. Perché? Avevamo dimenticato di dirlo. Il signor Paloma è stretto sulla pedana in mezzo a centinaia di visitatori che lo spingono da tutte le parti. Obiettivi di macchine fotografiche e di cineprese che si fanno largo tra i gomiti, i ginocchi, gli orecchi della folla inquadrando le rocce e la sabbia da ogni angolazione, illuminate dalla luce naturale o dai flash. Torme di piedi in calzini di lana lo scavalcano, le scarpe, come sempre in Giappone, si lasciano all'ingresso. Figliolanze numerose vengono spinte in prima fila da genitori pedagogici. Frotte di studenti in uniforme si sospingono, ansiosi solo di smaltire al più presto la visita scolastica al monumento famoso. Visitatori diligenti con ritmico su e giù del capo verificano se tutto quel che c'è scritto nella guida corrisponde alla realtà e se tutto quel che si vede nella realtà c'è scritto sulla guida. Possiamo vedere il giardino di sabbia come un arcipelago di isole rocciose nell'immensità dell'oceano, oppure come cime d'alte montagne che emergono da un mare di nuvole. Possiamo vederlo come un quadro incorniciato dai muri del tempio, o dimenticarsi della cornice e convincerci che il mare di sabbia si espanda senza limiti e copra tutto il mondo. Queste istruzioni per l'uso sono contenute nel volantino e al signor Paloma paiono perfettamente plausibili e applicabili immediatamente senza sforzo, purché uno sia sicuro davvero di avere un'individualità di cui spogliarsi, di star guardando il mondo dall'interno d'un io che possa dissolversi e diventare solo sguardo. Ma è proprio questo punto di partenza che richiede uno sforzo di immaginazione supplementare, difficilissimo a compersi quando il proprio io è agglutinato in una folla compatta che guarda attraverso i suoi mille occhi e percorre sui suoi mille piedi l'itinerario obbligato della visita turistica. Non resta che concludere che le tecniche mentali zen per raggiungere l'estremo dell'umiltà, il distacco da ogni possessività e orgoglio, hanno come sfondo necessario il privilegio aristocratico, presuppongono l'individualismo con tanto spazio e tanto tempo intorno a sé, gli orizzonti di una solitudine senza ansia? Ma questa conclusione che porta al solito rimpianto di un paradiso perduto per il dilagare della civiltà di massa suona troppo facile al signor Paloma. Egli preferisce mettersi per una via più difficile, cercare di afferrare quel che il giardino zen può dargli a guardarlo nella sola situazione in cui può essere guardato oggi, sporgendo il proprio collo tra altri colli. Cosa vede? Vede la specie umana nell'era dei grandi numeri, che si estende in una folla livellata ma pur sempre fatta di individualità distinte, come questo mare di granelli di sabbia che sommerge la superficie del mondo. Vede il mondo, ciò nonostante, continuare a mostrare i dorsi di macigno della sua natura indifferente al destino dell'umanità, la sua dura sostanza irriducibile all'assimilazione umana. Vede le forme in cui la sabbia umana s'aggrega tendere a disporsi secondo linee di movimento, disegni che combinano regolarità e fluidità, come le tracce rettilinee o circolari d'un rastrello. E tra umanità sabbia e mondo scoglio si intuisce un'armonia possibile come tra due armonie non omogenee. Quella del non umano in un equilibrio di forze che sembra non risponda a nessun disegno, quella delle strutture umane che aspira a una razionalità di composizione geometrica o musicale mai definitiva. Spero che vi sia piaciuto, a presto!